... Ah certo che andavi a fare... ... un'amore... ... due fiori... E a me pensavo che le cose vengono destituite bene... ... con la nuova guola... con la corda di una tapparella non troverai nella neve le imprute tra le mie scarpe o in un giardino e ormè di orsi ammaestrati per tenerti hai vista la mamma? ci siamo sempre descritto e adesso? quella è la sorella vero? ahah da quant'è che lavoravate insieme? 11 anni e 8 mesi 2 promozioni, 6 mesi di cassa integrazione e 2 a stipendio ridotto ah ma lui era contenta? bisogna amarsi molto per suicidarsi andrà il cannone è giusto 1950 io sono di chi non mi vuole o di chi non mi dice io sono di chi non mi vuole o di chi non mi dice sì le bambine però poverine sei un egoista ecco cosa sei ma non hai pensato alle tue figlie sono però sei mesi che ho preso i vitti per gli slayers sono assolutamente migliori per stasera io sono di chi non mi vuole o di chi non mi dice Sardegna alla moglie aveva detto un viaggio di lavoro visto sul mare i gardegni bianchi passiamo tutta la notte a parlare di noi ci amavamo Giada, capito? ci amavamo davvero l'hai fatto per lui è per lui, vero? è soltanto un problema filosofico veramente serio quello del suicidio dance with the daddy in my dreams dance with the daddy in my dreams allora, cambio i giusti 1947 cerchiamo un modo per farti felice con l'egoismo delle persone buone che non sopportano di esser tradite e non aspettano altro per diventare cattive e tu con gli occhi di chi non pretende un gesto folle una raccolta di firme mi dici anche stavolta ti sbagli io sono di chi non mi vuole o di chi non lo dice e loro vedrai imparerò a non volerti più e loro vedrai imparerò a non volere più niente milioni di api mi cammineranno addosso e la gente si chiederà che cosa c'è sotto ma sotto c'è uno che rompeva ogni cosa prima che ogni cosa si rompesse da sé e guarda allora come si è calmato come se tu fossi l'ultima cosa che c'è ormai ormai o o o a ormai o o il Grazie a tutti.